È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Dopo la pausa invernale, la Serie A è pronta a ripartire. La vittoria sull'Elas Verona ha assicurato al Napoli il titolo di campione d'inverno. Molto più di un semplice appellativo. Chi è in testa a gennaio, spesso si conferma leader anche al termine del campionato. La ditta c'è il gol! Passa in vantaggio a Neppoli, il gol di Coulibaly! Solo un punto dietro agli azzurri. La Juventus è pronta ad approfittare di ogni minimo passo falso. I bianconeri vengono da una striscia di 11 partite senza sconfitte in tutte le competizioni. La correva scossa sul destro. Così mezzo! Il vantaggio della Juve! Anche la Lazio è arrivata alla sosta con il morale alto. Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria per 5-2 sulla spalla e vogliono continuare a fare bene mettendo pressione ai rivali cittadini. La Roma ha concluso l'anno con una striscia di 4 gare senza vittorie ed è uscita sia dalla Coppa Italia che dalle prime 4 della classifica. Anche l'Inter spera di cambiare marcia alla ripresa dei giochi. I nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime sette partite e per di più ai rigori contro il Pordenone. Il Milan invece ha imboccato una nuova direzione dopo il cambio in panchina. Rino Gattuso ha già raccolto i primi frutti, l'accesso in semifinale di Coppa Italia e due match senza sconfitte in campionato hanno risollevato il morale dei rossoneri.